Questo organo qua nella Silvane Capelle non è un organo che all'origine è stato costruito per questa chiesa, per questa cappella qua. I musicisti da camera hanno fatto naturalmente anche musica da camera intorno a quest'ordano usando il principale per accompagnare i cantanti. Penso anche la mescolanza del suono dell'organo con le voci dei cantanti era perfetta. È un documento unico che ci dà l'idea della qualità, della raffinatezza del suono, della ricerca che c'era dietro. Penso che questa sia una testimonianza per noi costruttori e per voi musicisti veramente centrale. Grazie. Grazie. Grazie.